Se eravamo veramente rotti da essere sempre i più boni, dovresti curarti un po' di più. Meglio te ne durmi a casa, dai. Non te ne andare anche tu. Quelli che rimangono sempre fregati. Posso venire con te? No, eravamo come i quattro elementi, anche se eravamo tre, sì, in effetti. Stavamo a scavociare. Oh, ma non c'era modo di filmare. Gli avevo troppo bisogno di sfogare tutta sta rabbia. Solo, abbandonato come un cane. Adesso è il momento di dire tutta la verità. No, no, la gente, la gente lo deve sapere. Non hai gusto. Curati! Non vale così, cazzo! Mamma mia che sozzeria. Se volevamo vendicare, sì, c'era solo questo da fare.